Salve a tutti! Oggi voglio inaugurare la sezione teoria del canale dedicata appunto a tutti quei video che tratteranno argomenti di carattere più prettamente teorico, ma essenziali per il corretto dimensionamento di tutti i progetti che continueremo a realizzare. Voglio iniziare questa nuova sezione con un argomento davvero molto importante, ovvero la progettazione di dissipatori per componenti elettronici. Prima di avventurarci in questo argomento cerchiamo di capire qual è il problema. Il problema è che alcuni componenti elettronici durante il loro funzionamento si riscaldano e perché si riscaldano? Si riscaldano perché sono soggetti a perdite di varia natura, come ad esempio perdite di conduzione o perdite di commutazione. I principali componenti che sono soggetti a questo tipo di perdite e soprattutto a valori di queste perdite anche elevati li ho riportati qui sulla sinistra del foglio e sono i transistor, i mosfet e gli i gbt. Ovviamente le perdite di conduzione cambieranno a secondo della natura fisica del componente che si sta utilizzando, ovvero per quanto riguarda i mosfet avranno una natura di tipo resistivo perché il mos si comporta quando è acceso come se fosse una resistenza, mentre per quanto riguarda i transistor e gli i gbt si presenterà come una perdita dovuta alla caduta di tensione che si instaura fra il collettore e l'emettitore. Ovviamente com'è che si manifestano in senso fisico queste perdite? Si manifestano con un aumento di temperatura del componente, quindi avremo una certa dissipazione misurata in watt e quindi a seconda dei watt che vengono sviluppati la temperatura del componente inizierà a crescere più o meno velocemente. Ovviamente come sappiamo bene questi componenti non sono fatti per lavorare a temperature altissime, le massime temperature operative limite sono di 175 gradi. E quindi com'è che risolviamo il problema? Lo risolviamo estraendo questo calore che viene sviluppato da questi componenti e disperdendolo nell'ambiente. Come? Utilizzando i tre principali metodi di scambio di calore che conosciamo. Quindi attraverso lo scambio termico conduttivo, lo scambio termico convettivo e lo scambio termico per il raggiamento dobbiamo cercare di mantenere la temperatura del componente entro dei range accettabili per il suo funzionamento. Quindi che cos'è che noi andremo a fare nel proseguimento di questi video? Andremo a effettuare lo studio di questi tre fenomeni di scambio termico in modo da poter ricavare un modello di previsione per poter progettare correttamente tutti i dissipatori di cui avremo bisogno nel corso dei futuri progetti. Andiamo a vedere però nel dettaglio quello di cui vi sto parlando. Partiamo dalla definizione di modello. Che cos'è un modello? È un insieme di teorie fisiche che descrive un fenomeno in modo oggettivo. Quali sono le nostre teorie fisiche? Sono le leggi che governano i tre principali tipi di scambio termico che si conoscono. Quindi attraverso la conoscenza di queste leggi noi andremo a fare degli esperimenti, in pratica su alcuni dissipatori, e attraverso i dati, le misurazioni che faremo appunto grazie a questi esperimenti e tenendo in considerazioni le assunzioni teoriche che faremo e di cui vi parlerò in seguito, saremo in grado di ricavare, di costruire un modello matematico del fenomeno. Ma una volta costruito questo modello, che cosa ce ne facciamo? Qual è la sua utilità? Saremo in grado di analizzare, quantificare e dimensionare di volta in volta il nostro dissipatore con dei semplici calcoli matematici, senza dover più ricorrere a test fisici sul componente, quindi senza dover più ricorrere agli esperimenti. Quindi una volta ricavata una prima bozza del modello, quello che faremo sarà andare a progettare un dissipatore e poi successivamente a fare un test. Questo test in pratica sarà verificare che gli stessi valori utilizzati per la fase di progettazione si riscontrino poi nella realtà, ovvero facendo un esempio banale. Se noi andiamo a progettare un dissipatore in modo che quando il componente dissipa 5 watt la sua temperatura massima è di 80 gradi, quello che dobbiamo fare è, dopo aver fatto i calcoli e progettato il dissipatore andare a verificare che appunto la temperatura massima sul componente quando dissipa 5 watt sia 80 gradi. In questo caso se il risultato coincide con i calcoli che si sono fatti vuol dire che il modello che siamo riusciti a costruire funziona e quindi possiamo dire che il nostro studio è completo e siamo riusciti nel nostro intento. Nel caso invece in cui questi risultati non dovessero combaciare con la fase di progettazione quello che bisogna fare è purtroppo tornare indietro perché evidentemente si è fatto qualche errore in qualche passaggio e quindi questo loop continua fin quando alla fine non riusciremo a costruire un modello decente che riesca a prevedere la realtà fisica e quindi alla fine si conclude sempre qui ovvero che dobbiamo riuscire a fare questo modello. Adesso invece andiamo a dare uno sguardo alle assunzioni teoriche che faremo per costruire questo modello. La prima assunzione che verrà fatta è che nel nostro modello non sarà previsto lo scambio termico per conduzione perché questo è presente in una misura quasi infinitesimale, è quasi zero lo scambio termico per conduzione in questi componenti. In pratica facendovi vedere un esempio quando il componente è montato in questo modo si può vedere chiaramente che l'unico scambio termico conduttivo che si ha è attraverso i suoi tre pin su cui è collegata la scheda perché tutto questo sarà un po' volante in aria. Quindi lo scambio termico conduttivo è presente solo lungo questi piedini che sono davvero piccoli quindi il calore che passa da qui è davvero molto molto poco e poi cambia da scheda a scheda. Quindi è quasi imprevedibile riuscire a calcolare lo scambio termico conduttivo in questi componenti. Inoltre poi durante la fase di progettazione dell'esperimento farò in modo che questi pin siano messi su una tavoletta di legno in modo da riuscire a realizzare nel modo più fedele questa assunzione. La seconda assunzione è che la temperatura sarà considerata uniforme su tutto il dissipatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che su tutto questo dissipatore, prendiamo ad esempio questo, io andrò a far fin da che ogni suo punto sia alla stessa temperatura, quindi se diciamo abbiamo una temperatura di 50 gradi ogni punto del dissipatore sarà a 50 gradi. Perché questo? Perché come vedremo in seguito per riuscire a sviluppare poi il modello, quindi a prevedere quanto dissipa una determinata superficie a una certa differenza di temperatura con l'ambiente, è necessario effettuare la misurazione in base di sperimentazione come se tutta la superficie fosse a quella temperatura, anche perché non avrei il modo di misurare punto punto la temperatura su tutto il componente. Ovviamente poi una volta costruito il modello questo può essere esteso anche a componenti che hanno diversa temperatura lungo la superficie, ma questo poi si vedrà in seguito come si riuscirà ad ottenere. Per riuscire a svolgere l'esperimento sotto questa assunzione è necessario che il dissipatore sperimentale sia molto piccolo e che abbia un alto coefficiente conduttivo, quindi nella fattispecie che il materiale sia alluminio. La terza assunzione è che epsilon sia costante, ovvero il valore di emissività, il coefficiente di emissività del dissipatore che andremo a usare sia in valore costante. Questo valore ovviamente non è costante nella realtà ma dipende dalla temperatura del materiale, però è anche vero che per i metalli fino al range dove vogliamo testare noi di 175 gradi possiamo far fin da l'assunzione è abbastanza coerente che il coefficiente di emissività sia costante. Quarta assunzione sempre per quando riguarda lo scambio termico per il raggiamento noi assumeremo che l'ambiente esterno si comporti come se fosse un corpo nero, quindi che tutta l'energia irradiata dal nostro dissipatore venga perfettamente assorbita dall'ambiente in cui si trova, è che il fattore di vista sia proprio uguale a 1. Ultima assunzione, assumeremo che h, il coefficiente di scambio termico convettivo, sia variabile, che poi del resto nella realtà è proprio così, ovvero il coefficiente h non è costante ma varia con la differenza di temperatura fra il corpo e l'ambiente, il fluido che circonda il corpo. Quindi nello scambio termico a convezione naturale, si chiama così il particolare scambio termico che avviene su questo tipo di componendi, abbiamo che in realtà la legge fisica che governa questo scambio non è come magari l'abbiamo vista al liceo, che è un'equazione lineare, ma bensì assume di più un carattere di tipo trascendente. Per quanto riguarda invece la convezione di tipo forzata, quella non verrà analizzata in questo studio, in quanto i parametri che influenzano il valore di h in quel tipo di situazione sono davvero molti e non si può affrontare in un modo così semplice. Che cos'è che quindi vedremo nei prossimi video? Andremo a realizzare il circuito di test per poter effettuare questi appunto test termici, questi esperimenti, andremo a vedere come si misura il coefficiente di emissività del nostro dissipatore, ma in generale di qualsiasi materiale che può sembrare banale ma in realtà non è così, quindi andremo a vedere come si effettua questa misurazione. Una volta svolti questi due step andremo ad eseguire il test e andremo a raccogliere i dati che ci servono, dopodiché raccolti questi dati saremo in grado di costruire, di sviluppare il nostro modello matematico ed una volta realizzato andremo a fare una prova di progettazione di progettazione di un dissipatore e attraverso un test finale andremo a verificare che i valori di temperatura e di potenze misurate siano proprio congruenti con quelle previste in fase di progettazione dal modello che abbiamo costruito. Molto bene, quindi questo è tutto il riassunto di ciò che andremo a fare nei prossimi video, questa parte teorica è davvero molto corposa ma anche molto interessante da studiare e quindi sono molto curioso di vedere a che risultati riusciamo ad arrivare. Per questo video è tutto, alla prossima!